La caccia è cacciata, è parlata, è sognata ed è scritta. Giacomo Caretti ci conduce in un percorso lungo la nostra penisola alla scoperta di luoghi e tradizioni dove i vari ospiti ci presentano la loro caccia e il loro modo di interna. Signore e signori, gliel'hanno fatta. Qui ma con quei pompieri veniamo fuori. Viaggio in Italia tra caccia e tradizioni. Dal 3 maggio ogni venerdì alle 21 in esclusiva su Caccia, canale 235. Grazie per la visione!